Buongiorno, benvenuti dalla redazione web della città, ben trovati a questo nostro secondo appuntamento con le notizie dal web. Cominciamo come sempre con la viabilità, quest'oggi particolarmente ricca perché si preparano i festeggiamenti più importanti per San Giovanni, trovate il riepilogo completo comunque all'indirizzo in sovraimpressione. Dicevamo San Giovanni e domani però da oggi già cominciano le manifestazioni di un certo peso, infatti dalle 18 alle 20 ci sarà nel centro cittadino una sfilata delle bande musicali da Piazza Statuto per via Garibaldi Piazza Castello e poi si farà un corteo storico delle vie del centro con partenza dalle 18 in via Roma Angolo via Gramsci. Il corteo inizierà per via Roma poi passerà in piazza San Carlo Piazza Castello via Garibaldi via 20 settembre passerà davanti al Duomo di Piazza San Giovanni dopo la benedizione da qui proseguirà per via Milano Piazza Palazzo di Città fino al Palazzo Comunale e poi infine ancora in Piazza Castello alle 20 e 30 con uno spettacolo folcloristico e al termine intorno alle 22 e 30 ci sarà l'accensione del tradizionale farò e non falò perché è un termine piemontese, questa è una domanda che in questi giorni ci viene rivolta spesso. Per quanto riguarda i lavori andiamo a vedere anche questo aspetto di viabilità, questa notte da 1 alle 3 sarà chiuso il sottopasso di Porta Palazzo in Corso Regina per le operazioni di pulizia meccanizzata, avremo dei lavori edili anche in via Vipacco tra via Vandalino e via Adamello e dei rallentamenti sulla rotonda di Corso Mortara. In manutenzione abbiamo parecchi semafori, strada Aeroporto all'angolo con strada Bellacomba e strada Cascina Bertoglio, Corso Giulio Cesare, gli angoli con Corso Palermo, le vie Cherubini, Martorelli e Palestrina, via Pietro Costa all'angolo con Corso Appio Claudio e Corso Agnelli all'angolo con via Filadelfia. Brevemente vi segnalo anche le notizie di viabilità di domani perché ovviamente essendo festa non saremo in onda, molte le manifestazioni per la festa di San Giovanni, quindi vi rimando alla nostra notizia in home page per trovare tutti quanti i riferimenti. L'evento clou che prevederà anche la deviazione di molti mezzi pubblici sono i fuochi d'artificio che si terranno le 22.30 sul ponte della Gran Madre, il ponte di Piazza Vittorio, quindi i fuochi d'artificio sul Po ovviamente, le conseguenze sul traffico le potete immaginare ma trovate tutto quanto sulla notizia in home page. Passiamo a vedere il tempo, oggi è stata decisamente una bella giornata, la rilevazione delle ore 15 sulla nostra home page ci dà una temperatura intorno ai 29 gradi, l'umidità è bassissima, questo rende ovviamente piacevole il caldo in città, sono circa il 22% di umidità, per quanto riguarda le prossime ore, le previsioni sono di una situazione tutto sommato stabile, un cielo sereno, abbiamo un'area di correnti secche che interessa la nostra regione, quindi questo ci porta ovviamente a condizioni di bel tempo e anche abbastanza tollerabile, le minime nella notte raggiungeranno i 16 gradi, le massime di domani circa 30 gradi, da giovedì più o meno dovrebbe arrivare qualche nuvola, ma sapremo qualcosa in più ovviamente nella mattinata di giovedì. Passiamo alle notizie dal web della città, di San Giovanni abbiamo già parlato, delle lezioni abbiamo parlato questa mattina, allora vi segnaliamo una tipica notizia estiva, quella relativa alle piscine aperte, le piscine comunali a Torino per questo periodo estivo, trovate tutti quanti i riferimenti a partire dalla notizia in home page, vi ricordo che ragazze e ragazzi con il pass 15 possono entrare con 10 ingressi gratuiti alle piscine nei giorni feriali. Chiudiamo con le webcam, prima di andare a vedere la situazione degli appuntamenti culturali di questa sera, qui siamo in Piazza Palazzo di Città, che questa sera come detto sarà teatro dei festeggiamenti, qui siamo alla Molle Antonelliana con la webcam della Regione Piemonte, per il traffico invece ci spostiamo a nord, rotonda autostrade verso lo Torino-Milano, traffico intenso ma scorrevole, traffico parecchio intenso direi invece quello che si trova all'incrocio tra Corso Agnelli e Corso Cosenza, soprattutto Corso Cosenza direzione ovest, quindi in uscita dal Lingotto e Corso Agnelli direzione sud, sono i due riquadri in alto nell'immagine che state vedendo. Bene, allora è il momento di vedere cosa fare questa sera a Torino-San Giovanni a parte, passo la parola a Matteo De Simone. Grazie Mirko, eccoci allora come sempre con gli appuntamenti per la serata. Cominciamo segnalandovi che il Jazz Club Torino in Piazza Valdofusi propone questa sera il concerto dell'orchestra jazz diretta da Gianni Basso, un pezzo di storia del jazz italiano che si esibisce insieme a Dusko Gojkovic e la partecipazione straordinaria di Piero Angel. La vita è un miracolo invece il film di Emir Kusturizza che completa la rassegna dedicata al regista dal Cinema Massimo in sala 3 come sempre alle ore 20 e 30. Questa sera il reporter di guerra invece il libro di Mimmo Candito che viene presentato a Palazzo Granieri al Circolo dei Lettori alle ore 21 via Boggino 9. Il libro è la storia del giornalismo difficile con 11 reportage da Hemingway al periodo appunto di internet. Bene per quest'oggi è tutto, le notizie dal web della città ritornano domani alle ore 9 e 15. Ringrazio Mario Parina che ci ha aiutato nelle messe in onda della puntata.